A monta oltre 5 milioni di euro la truffa ai danni dello Stato scoperta dai carabinieri del comando provinciale del nucleo ispetturato lavoro di Napoli che con l'Inps hanno passato al setaccio un imponente numero di stanze di reddito di cittadinanza e scoperto 2441 posizioni irregolari che sono state tutte revocate. Molte sono risultate intestate a camorristi, a loro parenti, a parcheggiatori abusivi, rapinatori, truffatori e lavoratori in nero. I denunciati sono 716, 422 con pregiudizi penali, 64 per associazione mafiosa. Dal mese di giugno i militari dell'arma sono impegnati in una campagna di controllo e verifica sulla legittimità della percezione del reddito di cittadinanza. Dalle verifiche effettuate sono emerse molteplici irregolarità che hanno portato ad arresti e denunce in varie parti del territorio. Molti casi eclatanti, tra questi quello di un 46enne di Castellammare di Stabbia, già noto alle forze dell'ordine, che si è recato all'ufficio postale di Via Plinio il Vecchio. Presentando una carta d'identità bulgare, evidentemente falsa e simulando addirittura un accento straniero che di balcanico aveva ben poco, ha tentato in vano di ingannare l'operatore dello sportello, per ottenere una tessera per il reddito di cittadinanza. Il suo trucco è stato smascherato ed è finito in manette. E' dal 7 aprile 2020, invece, che un 41enne di cardito percepisce puntualmente ogni mese il reddito di cittadinanza, pur essendo agli arresti domiciliari, ha presentato istanza, ha ottenuto il contributo pensile e per oltre un anno e mezzo ha ricevuto indebitamente denaro dallo Stato. Non avrebbe dovuto, perché destinatario di un provvedimento giudiziario, ovviamente non dichiarato nel form di richiesta. Ora ne dovrà rispondere penalmente, il reddito gli sarà revocato e, oltre alla misura di domiciliaria, avrà pendente una denuncia per truffa aggravata ai danni dello Stato. Tra i denunciati, la maggioranza italiana. Dei 716 segnalati alle procure sono 673 i connazionali richiedenti, mentre solo 43 gli stranieri, 394 gli umili, 322, le donne. Un danno erariale impressionante. Dal venditore ambulante di calzini al rapinatore, dal garzone del bar al familiare del camorrista e al camorrista stesso. Tra le centinaia di denunce fatte dai carabinieri spuntano anche persone legate alla criminalità organizzata. I militari hanno indicizzato i percettori in base ai reati commessi. Tra le macro-categorie prese in esame, i nuclei familiari di persone con precedenti di polizia per truffa, per rapina e quelli che al loro interno annoverano soggetti destinatari di misure cautelari personali.